Aki, finché prepari il pranzo, io vado un attimo in bagno. No, Nicolás, devi stare zì. Aki, hai visto che sono tornato giù? Chi sei tu? Ma sono tuo marito. Via. Aki, hai visto che sono tornato giovane? Guarda. Chi sei tu? Via. Aki, hai visto che sono tornato giovane? Ok, via. Aki, hai visto? Guarda, sono tornato giovane. Magari, Luca. Vai. Ok, dai. Via. Aki, hai visto? Guarda, sono tornato giovane. Guarda. No, no, guarda che sono tuo marito. Non sapevo che stavi riprendendo. Via. Vai, vai, vai. Mi devi credere. No, no. No, Nicolás. Via. Idechi, sei tornato? Pensavo non tornassi più. No. Lui ti deve dire prima ciao donna. 3, 2, 1. Via. Ciao donna. Andava bene, va bene, li facciamo, dai. E' inutile che ti spiego, non capiresti. Facciamo una cosa, io sono sempre qua di mattina. Quindi se vuoi incontrarmi non ci sono problemi. Adesso prendi una di questa. Aspetta un attimo. Ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, vai. No, non li ho, che cosa devo fare? Un po' più alta voce. Non sento, cazzo. No, non li ho, che cosa devo fare? Certo che te l'ho fatta pesare però, eh. Cazzo. Basta. Via. Aspetta, aspetta che c'è... Via. E vai. Aspetta, aspetta. Quando vuoi. Aspetta, sono un po' incazzato. Ok. Sono un po' incazzato, Toru. C'è un cliente che... Ci credo, ci credo. Se ne stacca, stacca. E via. Aspetta. Che personaggio... Lascia un po' libero qua in modo che ci metti la prezzissima. Che personaggio ridico? Che devo fare? Dammi un attimo, eh. A noi. Devo entrare in personaggio. Ok. In da di te. Sì, poi se guardo te con che la faccia lì... Via. Le mie. No, aspetta, ecco. Niente, a dire. Ho già dimenticato cosa devo dire. Cosa credi? Che ce ne sono soltanto di un tipo. Ce ne sono di vari tipi. Cosa del genere. Cosa avevi detto tu prima? Le tue pillole. Ok. Oh, sì. Sì, sì. Ok, adesso ci sono. Sì, ma le scene dopo sono più facili. E allora fanno una per poter uscire da qua o no? Cazzo ho guardato in camera, aspetta. Ti prego Kenzo, liberami da qua e facciamola finita, per favore. Vuoi uscire, vero? Sì che vuoi uscire. Va bene. No, aspetta, no, aspetta. Dai, facciamo, non la teniti. Ok. Allora tengo due secondi. Sì, esatto. Facciamola l'audio. Via. Ma in stato paia? Cazzo qua fuori? Ho guardato in camera. Vabbè, 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 teniamo. Ok. Via. Ma così facendo? Aspetta un attimo, Lino. C'era il rumore dell'acqua, insomma. Non vorrei che magari dopo il socorso coprisse la voce. No, vabbè, vabbè. Vabbè, aspetta bene. Ottimo. Ok, vai. Via. Entra lento, schiavo! Perché l'hai fatto? Insomma... Ah, era tutto insieme, cavo. Via. Aspetta, ma stavo guardando là, cazzo! Guarda lui. Ok. Aspetta, che cazzo dico? Ok, dai, via. Mi devi creare un'ultima pillola. Un'ultima pillola che mi faccia... Cazzo! No, che cazzo dico! No, chi è la resa dei conti? No, chi? No, chi? No, chi è la resa dei conti? Ma, chi è la resa dei conti? Grazie a tutti